Musica E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Cube Avevo interrotto tra virgolette questo gioco ma in realtà non è che l'avevo interrotto Scusate se mi scrocchio le dita ma mi da noia non farlo al contrario di altri Comunque volevo dirvi perché ho leggermente per un attimo interrotto questa serie Perché avevo visto che la qualità del video, dei miei video era calata a dir non poco Nel senso che su YouTube non esistevano più sui miei video i 720p Cioè il massimo dei miei video era 480 e quindi già lì si poteva capire che qualcosa non andava Sto continuando a registrare con quel metodo E purtroppo vi devo fare queste spiegazioni perché devo perché sennò uno dice Ma non se ne accorge che fa dei video così schifosi di qualità e tutta sta roba Può darsi anche a volte ragazzi laghi il video per 2-3 secondi più volte Specialmente nei video di Jonathan Dash succede questo Questo pen, tutto questo penso sia dovuto soprattutto alla mia scheda video Che è una 6.30 e non so sinceramente come cazzo ho fatto a infilarcela Potevo prendermi una 1050, ma che c'ero Però quando ho preso sto PC ancora non masticavo un cazzo di informatica Non potevo sapere che bisognasse fare accoppiamenti di un certo tipo Comunque ragazzi vediamo se riusciamo a fare cose Questa sta Ma questa è la stessa Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare lassù C'è un rosso che è lassù Quindi se giro questo giro il rosso Il blu che è qui Diciamo che non so se Ah vedi il blu è cambiato Ok aspetta Mentre il giallo Il giallo, il giallo, il giallo Dove cazzo è giallo? Ah minchia Allora calmo Il verde che cos'è? E' questo Dunque il blu c'è l'ho lì no? Quindi a me viene in mente di fare una roba del genere Adesso il verde Con il verde posso salire sul blu Potrei andare a tentare di fare il rosso Che secondo me così va bene Lo allunghi di tutto E poi il giallo Il giallo Lo allunghi di tutto anche questo Anche se però non capisco Dove sia Va bene proviamoci 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 Oh no E' sbagliato Allora il rosso Mi sa che devo Facciamolo così Se provo a fare così Aspettate Facendo un po' di prove ragazzi Perché non so assolutamente niente di questa parte di gioco E penso Di non continuare più Se vedo che diventa Troppo difficile Ehm Oh Ci sono? Dov'è che sono? Ah Ho capito Dovevo attivare il giallo Per fermarmi qui sul rosso Ah Vabbè Allora Era facilissimo ragazzi Sono io che sono Un rincoglionito E non capisco le cose Scusatemi Ok Qui c'è Una balla Immagino che scenderebbe Ehm Ok allora Aspettate Mi viene in mente Di alzare questo affare Facciamo così In teoria se faccio così dovrei aver finito Ok perfetto Perfetto Il primo coso l'abbiamo fatto Allora Facciamo così Ehm Esattamente identico all'altro Solo che c'è un giallo non mi è sembrato il blu è qui il biancial vabbè faccio così? non lo so allora aspetta devo andare qua per la prospettiva questo rosso a che cazzo serve? lui è lì ah ok ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito devo fare questo 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 che sono tipo questo lo abbasso eh ma devo fare in fretta è difficile cazzo ragazzi io sono ufficialmente un coglione ho appena scoperto che il giallo lo puoi anche non disattivare e ci va lo stesso maledetto ma che cazzo ne so io ma io pensavo battessere zoffitto maledetto questo per terra cos'è la pallina è lì il giallo è lì il rosso sta qui il viola un signore giallo è lì verde rosso ok ho capito il rosso devo girare qua il rosso in teoria ok rimane bloccata ah no ci ho fatta mamma mia pro player ho sbloccato la nuova zona è troppo fuori vabbè qui penso sia abbastanza scontata la cosa c'è un leggero questo parkour faccio così ok si va avanti ragazzi si va avanti dopo un po' di riniginamento che non so pronunciare mai nella vita questa parola bella sta stanza comunque lì c'è l'uscita non è vero non è un'uscita vuoi saltare perché non non funziona il salto infinito se tengo comunque la barra a spazio perché sta impostato male nel codice di sviluppo ah ok si apre questo cos'è questa roba cioè se li premo qui si attacca uuu che figata vabbè allora è facile faccio così e teoria vuol ok devo far praticamente far arrivare il cubo che tra l'altro non è mai vero nella nel raggio di luminescenza ok il cubo è cosa 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 aspetta no madonna tornale fa fuori no che palle ok ho sbagliato va bene va bene ci sono ci sono ci sono no perché è impossibile la vita oh ce l'ho fatto prego devo forse fare una cosa del genere aspetta devo forse fare così lo fermo salgo tutto e poi vengo trasportato questa era bella questo era bellissimo questo era veramente bello non so da quanto è che io stia registrando ma tanto ho fatto dei tagli assurdi quindi non me ne deve fregare c'è un magneto lì prego forse ho capito proviamo non preme che cazzo in teoria faccio così poi lo trasporto l'ho già fatto perfetto mamma mia adesso basterà fare di questo poi mi ci metto sopra e faccio e dai per ora questa parte con i magneti è facile però sicuramente arriverà la parte difficile già qui mi sembra un po' più incasenato ma devo farlo contemporaneamente si si via ce li devo calcolare precisamente tipo così no facciamo così poi devo fare tipo così e andiamo di là andiamo dall'altra parte assieme tipo devo fare così va bene va bene così dai teodia dovrebbe esserci yes e ce l'ho fatta adesso problema più grande come ci salgo mi viene in mente una roba del genere sta calmo tipo di farli andare nello stesso cosa ok adesso sono sopra l'uno sopra l'altro se io adesso in teoria faccio così li fermo qui e poi ci salgo sopra sperabilmente sperando che si possa salire sperabilmente allora io ragazzi sono abituato a dire sperabilmente sperando ma non si dice non so perché ok si faceva così in realtà era abbastanza intuitivo però non era semplice arrivarci qui è veramente più difficile non so se stoppare in realtà no se non la parte viene troppo corta da quanto è che sto registrando scusate un attimo 26 minuti no ok ragazzi direi di concludere qua quest'altra puntata sta laggando un po' non so perché fare a rifrendere i frame ok spero che il video vi sia piaciuto anche se ripeto che con questi problemi sia di grafica che di lag ogni tanto non so quanto possano venire belli i miei video però accettate per quel che per quel che c'ho perché per quel che c'ho per quel che ho perché diciamo che non è così semplice per me riuscire a rimettere a posto chiamerò un mio compagno di classe che è bravo informato e vedremo se riusciremo a risolvere questo problema aumenteremo il bitrate oppure lo diminuiremo adesso vedremo comunque ragazzi se il video vi piaciuto se mi piace commento condividete e iscrivetevi ci vediamo alla prossima forse parte di cube sempre se riusciamo a risolvere questo problema e ciao a tutti